Over 50, da domani scatta l'obbligo e per chi è senza Green Pass non potrà recarsi al lavoro, tu cosa ne pensi? Mi sembra giusto perché alla fine se lo facciamo tutti, noi giovani, meno giovani, bimbi, è giusto che lo facciano tutti quanti, quindi se io sono obbligata a farlo per lavorare è giusto che ce l'abbiano anche loro, quindi mi sembra più che corretto per democrazia, ce l'abbiamo tutti così nessuno ha da ridire e quindi è giusto così. Che è giusto, che è giusto perché dovevamo vaccinarsi tutti e non è stata fatta altra cosa, quindi va bene così, giusto? Altrimenti dalla pandemia non ne usciamo più. Esatto, veramente, perché siamo stanchi, sono due anni che stiamo passando questo momento critico ed è giusto che la legge sia uguale per tutti. Assolutamente è un abuso di diritto e penso che non si debba applicare, così come ci sono state altre sentenze che hanno dato torto a chi ha sospeso i lavoratori senza stipendio, direi che anche questo sarebbe meglio non l'applicassero già da domani. Penso che sia una coercizione, una cosa che discrimina senza altro solo le persone, che sia contro anche l'economia e che la gente ancora non abbia capito quello che è il vero scopo del Green Pass. Il Green Pass serve solo per schedare e limitare le persone in tutte quelle che sono le loro operazioni e basta? Sì, sono d'accordo perché è una sicurezza per tutti, specialmente anche nei luoghi di lavoro e secondo me sì, va benissimo. Grazie.